E' buio fitto, affriggente in Irpinia sulla scomparsa di Luigi Belvedere, originario di San D'Angelo dei Lombardi. 68 anni, sposato e padre di un figlio, manca all'appello da oltre un mese. Era uscito per una passeggiata alla frazione Pagliara e da allora non ha fatto mai più ritorno a casa. Era di San D'Angelo, ho lavorato all'ospedale, io sono 30 anni che sto là, quindi chi meglio di me lo conosceva. Certo è un peccato perché comunque era una persona molto umile. La casa di Luigi è questa che vedete alle mie spalle, qui in località La Quarta, dove regna il silenzio più totale. Si facevano le sue passeggiate su e giù, sempre col cappello della Juventus, purtroppo non quello del Napoli comunque. E' una persona che non creava nessun problema, anzi onestamente siamo tutti uguali un po' in pensiero. A nulla è valso l'appello a chi l'ha visto, la preoccupazione del sindaco Carmine Ciullo. L'allarme purtroppo è stato dato molto tardi e quindi le iniziative di ricerca sono partite tardi con i risultati che fino a questo momento sono nulli. Indagano i carabinieri impegnati nelle ricerche i volontari della locale pubblica assistenza e la polizia municipale. Abbiamo perlussorato le zone di Rocca San Felice, Guardia dei Lombardi, Bisarcia, Sant'Angelo dei Lombardi e Leone. Se la segnalazione fosse avvenuta sempre estivamente, chiaramente si poteva partire con i cani, con il drone, quello che ha la possibilità di ricerca maggiormente.